Buonasera, ben ritrovati, sono al tavolo, al tavolo dell'intervista del punto perché questa sera voglio dare spazio e voce ad un argomento davvero molto importante come quello della disabilità partendo da un fatto di cronaca degli ultimi giorni davvero ingombrante come caso che parleremo questa sera con tanti esperti sulla materia. Innanzitutto ringrazio per aver accettato il mio invito all'avvocato Antonella Lella nonché presidente dell'associazione Diretta al Domani, ben ritrovata. Grazie Manila, ben trovate voi. Da Fratelli d'Italia c'è Giuseppe Labate, eccolo qui. Buonasera, buonasera a te Manila. Vado a salutare da Roma in collegamento dal partito gay LGBT, Fabrizio Marrazzo ben ritrovato. Buonasera a voi. E grazie anche a Paolo Vicino che da calciatore diventa scrittore di una storia molto bella che questa sera andremo a presentare. Grazie Paolo. Grazie Manila, buonasera a tutti. Allora, è accaduto questo. Io me ne sono occupata circa un anno fa. Ho accolto il grido di diversi ragazzi e ragazze, come dire, sulla carrozzina. Non c'è da vergognarsi perché sono persone che protestano tanto quanto noi, perché il diritto li deve essere riconosciuto. E mi ricordo che in quella circostanza un anno fa avevo interpellato alcuni membri del nostro governo pugliese al riconoscimento di alcuni diritti. Succede che dopo un anno, e credo sia una delle pagine più triste del nostro territorio per chi fa questo mestiere, queste persone sono state punite o saranno punite perché adesso bisognerà difendersi, perché secondo quelle che sono appunto le indagini svolte, questi signori con la carrozzina, mentre manifestavano per i loro diritti, avevano abusato del suolo pubblico. Una vicenda davvero molto, molto triste. Andiamo sulla ricostruzione. Hanno presentato opposizione e sono disposti ad arrivare fino alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, i disabili, destinatari di un decreto penale di condanna emesso dal Tribunale di Bari, per aver partecipato nel luglio del 2021 a una manifestazione dinanzi alla sede della Regione Puglia, durante la quale, secondo l'accusa, hanno prima occupato e interrotto il traffico sul lungomare e poi occupato un'aula dell'edificio per quattro giorni. Ad annunciarlo è l'avvocato Giuseppe Piacentino che difende uno degli otto disabili condannati, con pena sospesa, per interruzione di pubblico servizio e invasione di edifici, a quattro mesi di reclusione al pagamento di una multa da 9.425 euro. I disabili hanno presentato opposizione e chiesto di andare a giudizio dibattimentale. Se dovessimo perdere in tutti e tre i gradi di giudizio, spiega illegale, ci rivolgeremo alla Corte. Nel provvedimento emesso dal GIP Angelo Salerno emerge che gli otto disabili in concorso fra loro, in occasione della manifestazione Stop Barriere, avrebbero occupato la sede stradale del lungomare dinanzi al Palazzo della Regione, ininterrottamente dalle 10 alle 14.40 del 13 luglio, causando un blocco stradale. Il GIP scrive anche che le stesse otto persone, dopo essere entrate nella Sala dei Jesu al primo piano della Presidenza della Regione, hanno occupato ininterrottamente e abusivamente l'edificio pubblico dal 13 al 16 luglio di quell'anno. Sono convinto che dimostreremo l'innocenza di queste persone, dice Piacentino. Il processo potrebbe iniziare non prima di tre mesi. Indicherò come testimoni il governatore Emiliano, l'assessore Barone e due dirigenti, prosegue l'avvocato che precisa, fra gli otto disabili, due fra i quali il mio assistito sono membri della Commissione internazionale dei diritti umani. Allora, avvocato Lella, intanto io verrò poi a presentare un libro meraviglioso che le ha fatto, mi spiace sentirla su questo, ma credo che sia davvero una questione abbastanza surreale. Surreale Manila, proprio perché è assurdo privare questa gente, di manifestare sui propri diritti. Sono persone ovviamente, quindi non ci sono differenze, hanno voluto manifestare giustamente perché privati di qualcosa e quindi a gran voce il loro grido deve essere ascoltato e non può essere disatteso. Questo perché? Perché chiedono più inclusione sociale, più autonomia, perché questa regione, in particolare la nostra città, è piena di barriere architettoniche, quindi non riescono ad avere una vita normale. Quindi io dico sempre che la disabilità è negli occhi di chi si sofferma semplicemente a guardare un corpo, un corpo costretto in carrozzina, ma per quanto riguarda tutto il resto della persona, persone in quanto tale, con una propria anima, un proprio cuore, emozioni, sentimenti, capacità, capacità di generare professionalità. Ci sono tantissime ovviamente diciamo questioni che devono essere affrontate perché il tema della disabilità è un tema fondamentale perché non si possono ignorare persone che rappresentano nella nostra regione il 5% della popolazione. Quindi è un numero altissimo. Importante, sono tantissimi. Sono più di 180 mia, per cui è impossibile non tenerne conto. Quindi giustamente protestavano. Per la serie non sono invisibili. Non sono invisibili. Vengo da Giuseppe Labate. Lei rappresenta il nuovo governo, rappresenta il suo partito Fratelli d'Italia, nonostante in Puglia governa palesemente il centro-sinistra con l'aggiunta di Michele Emiliano e la maggioranza a sinistra. Bisogna trovare una fusione fra la questione partitica perché qui bisogna andare oltre, perché qua bisogna riconoscere i diritti a prescindere dallo schienamento politico, è quello che lei ha sentito davvero vergognoso. Allora, intanto ringrazio l'avvocato Lella perché ha fatto veramente una fotografia precisa di quella che è la situazione attuale anche in Puglia. Ma io vorrei innanzitutto fare una premessa. Tutti parlano di diritti, di dare diritti ai portatori di handicap. In realtà il problema nasce, come dire, un attimino un po' più complesso perché al riconoscimento dei diritti sacrosanti, così come per tutte le altre persone, questa gente invece ha dei fabbisogni che sono decisamente diversi o se non più complessi rispetto a quelle delle altre persone, quelle delle persone diciamo cosiddette normali, tra virgolette. Ora è chiaro che se arriva una persona in carrozzina a manifestare di fronte a quella che è la sede istituzionale per eccellenza, non lo fa certamente per un piacere. Ma tra l'altro ho saputo, perché gli avvocati e i difensori così mi hanno chiarito e acclarato che c'era comunque la comunicazione per poter fare quella manifestazione, non si sono presentati così e anche perché da soli non riescono manca ad arrivarci lì. Quindi io dico, ecco, al di là della questione burocratica, che comprendo, ora poi bisogna andare a viscerare chi si è sentito urtato dalla presenza di questi otto signori che in carrozzina chiedevano i loro diritti. Io dico una cosa, la sensibilità dov'è? Perché anche chi deve notificare un atto del genere, ripeto, se avessero ammazzato qualcuno o avessero fatto violenza contro qualcuno, io sarei stata la prima, la prima nelle mie trasmissioni, così come un anno fa ho difeso quelle persone, ho dato la possibilità di venire a parlarmi del loro problema e ricordo che in quella vicenda, vado da Marrazzo, quella parte politica mi aveva ascoltato, aveva accolto l'appello di queste persone, però evidentemente mi stavano prendendo in giro, perché poi dall'altra parte invece oggi vengo a scoprire che queste otto persone che manifestavano pacificatamente sono stati condannati a 4-5 mesi di reclusione e a 9.000 euro. Allora Marrazzo vengo da lei, cioè com'è possibile chiedere 9.000 euro se queste persone vengono a denunciare nelle mie stesse trasmissioni, vengono a denunciare a quella parte della politica che non riescono a pagarsi un badante, non riescono a pagarsi medici che hanno bisogno di supporto, com'è possibile che quella stessa parte politica li condanna a pagare 9.000 euro? Io credo che questa sia una situazione davvero surreale. Questa è una dinamica purtroppo molto comune in Italia, c'è una simmetria, dal lato c'è uno Stato che non ti dà diritti, dall'altro però se tu protesti, manifesti e chiedi questi i tuoi diritti, ti sanno dare bene le sanzioni e le multe, se sbaglio una virgola, ma dall'altro lato se lo Stato è latitante, che non ti garantisce i tuoi diritti, che non ti dà l'assistenza che ti dovrebbe dare, non c'è nessuna sanzione, quindi ad esempio anche quando i pagamenti che sono pochi e scarsi per le persone disabili o in difficoltà arrivano in modo tardivo, a volte addirittura arrivano in casi di persone che stanno in grande difficoltà, gli arrivano addirittura dopo che sono morti, quindi tutto il periodo in cui avevano bisogno dell'accompagnamento, non hanno avuto nessuno, lì non paga mai nessuno, poi se però tu fai una manifestazione e un automobilista segnala questa iniziativa e si trova il cavillo per cui c'era una parte non autorizzata o un blocco del traffico ipotetico che viene fatto, subito partono in modo celere le denunce, le sanzioni e le multe, questo non può più avvenire, lo Stato non deve essere asimmetrico, da un lato deve dare diritti e dall'altro lato quando uno sbaglia si deve pagare, invece qui a qualunque minimo sbaglio vediamo che c'è un accanimento, ma dall'altro lato... A proposito di diritti, quando poi vengono dibattuti nello scenario politico, dobbiamo analizzare tre dati, per esempio nelle passate politiche, il 25 settembre scorso vince Giorgia Meloni, questo oramai è acclarato, è al governo, qui abbiamo l'Abbate che rappresenta Fratelli d'Italia, voi che avete fatto un'accordata con il Movimento 5 Stelle siete i primi in Puglia, però governa Emiliano che con le sue civiche è il suo partito democratico. Ora, mi perdoni, in questo frullatore i telespettatori staranno chiedendo e che c'entra, no c'entra e come, perché sugli equilibri politici adesso come la mettiamo, come lo risolviamo questo aspetto, perché questo caso secondo me diventerà un caso nazionale. Sicuramente si deve capire da chi è stata innescata questa denuncia, se è venuta ad esempio dalla Regione lo troverei molto grave, perché parliamo di una manifestazione pacifica di otto persone comunque già in condizioni di difficoltà in cui casomai la Regione doveva aiutarli. Spero che non sia dovuto a loro, ma se è dovuto a loro si crea un forte errore politico, perché anche se ci può essere il presupposto giuridico della mancata comunicazione o mancata marca da bollo, questo non giustifica un accanimento su queste persone, anzi io penso che la libertà di manifestazione spontanea ci dovrebbe essere ovunque, dovrebbe essere sempre consentita laddove non si creano danni e questo quindi le manifestazioni pacifiche dovrebbero essere comunque organizzate. Purtroppo anche a livello nazionale abbiamo visto che quando ci sono delle manifestazioni spesso queste neanche vanno garantite e apprendo con piacere che il governo ha fatto il passo indietro sul decreto dei rave che si estendeva anche a tutte le manifestazioni e che fortunatamente come noi abbiamo detto sin dall'inizio che era un decreto sbagliato hanno capito che non potevano andare avanti ma perché c'erano anche diciamo dei presupposti di incostituzionalità e l'hanno poi modificato. Su che cosa non sei d'accordo Abate? No, io volevo intanto comprendere bene, prima Marrazzo ha citato più volte, ha tirato in ballo lo Stato, ecco poi io mi domando e dico se lo Stato per lui intenda ovviamente la parte politica, chi governa però c'è una parte di Stato che fa capo a enti come ad esempio l'Inps dove purtroppo ogni giorno quotidianamente assistiamo a situazioni dove c'è grave discrezionabilità rispetto al riconoscimento di alcuni diritti come l'accompagnamento di cui parlava o altre situazioni. Lo Stato per definizione ha due ambiti, un lato è l'ambito politico e di chi legifera e legifera purtroppo spesso male e poi dall'altro lato c'è chi sulla base di quelle leggi come sul Reb che voi avete scritto scritte male si trova ad operare, per questo noi diciamo che quando le leggi vanno scritte vanno scritte bene, la legge sul Reb se non venisse modificata così come è stato detto implicava che oltre alla manifestazione che è capitata l'altro giorno qualunque altra... Dice anche Marrazzo con Reb avete fatto dei passi indietro, adesso voi qui in Puglia sollevate un caso che come dicevo prima rischia di essere nazionale, che posizioni avrete? Perché immagino che Giorgia Meloni se venisse a sapere una cosa di questo genere sicuramente prenderebbe le distanze perché qua c'è una certa magistratura che sta condannando delle persone che sono in carrozzina, mi sembra veramente paradossale tutto questo, no avvocato? Secondo me stiamo creando un attimino di confusione perché poi dobbiamo essere chiari, sembra quasi che ci sia il problema della disabilità che può diventare uno spot elettorale come è accaduto per quella pizzeria che ha impiegato i ragazzi autistici, grande iniziativa di grande elogio per l'imprenditore che l'ha fatto ma ne è diventato uno spot pubblicitario per Letta durante la campagna elettorale, poi di contro invece c'è la parte politica che appoggia Letta e che invece si comporta diversamente in maniera periferica. Cioè queste cose le dobbiamo anche dire e dobbiamo essere chiari a dircele. Insatti, tra l'altro io penso che la manifestazione del pensiero che è garantita dall'articolo 21 della Costituzione non debba essere negata a nessuno e poi in questa circostanza io credo che bisogna soprattutto far leva sulla sensibilità. Ora il fatto che siano stati occupati degli uffici pubblici penso che la denuncia sia arrivata ovviamente dalla regione, non può essere, perché ovviamente una cosa è il suolo pubblico e chiunque, ma se parte perché ovviamente hanno occupato una stanza della regione sarà sicuramente partita dalla regione. Paolo, vengo da te, se fosse poi tutto partito dalla regione Puglia, che addirittura prima li accoglie e poi li bastona, tu che sei uno scrittore che ha raccontato la storia di Michele che tra poco racconteremo, che sai una certa sensibilità, c'è da dire Paolo che non tutti hanno questa sensibilità, se fosse acclarato questo sarebbe davvero uno scandalo. Assolutamente no, arrivo al punto, c'è la sensibilità e il tatto, in questa situazione credo che gli enti comunali, regionali non l'abbiano per niente avuto, si tratta di ascoltare la grande richiesta a gran voce, il grido di aiuto, di ausilio di questi giovani, grandi, adulti, uomini disagiati, che protestavano in maniera pacifica, quindi lo si è detto e credo che la regione non debba tergiversare la questione e quindi indirizzarlo sul fatto che qualcuno abbia creato un po' di scompiglio, un po' di situazioni disagianti per altri cittadini, bensì doveva accettare, ricevere queste persone e accoglierli all'interno del palazzo senza citarli in giudizio, quindi credo che davvero mi sento ancora più in dovere di gridare a gran voce che la sensibilità non è per tutti. Ecco, Marrazzo, la capacità di ascolto in questo caso è venuta a mancare, perché non è possibile, no? Come dire, prima accogliere queste persone che, ripeto, in maniera pacifica erano lì per protestare sul riconoscimento di alcuni diritti e poi vengono bastonati con questa sentenza. Sì, guarda, questo è tipico, io mi auguro che non sia stata veramente la parte politica della regione Puglia a fare una denuncia di questo tipo, se noi pensiamo come molte forze di opposizione si sono opposti al decreto Rave appunto perché l'applicazione del decreto Rave poteva andare a far sì che tutti gli studenti che, come sappiamo, annualmente occupano le scuole, anche laddove non ci sono danni per le scuole, potessero essere denunciati. Come sappiamo l'occupazione delle scuole l'abbiamo fatta tutta ed è una pratica politica, ma nessuno si è trovato denunciato o ha dovuto pagare danni o con anni di carcere perché ha occupato una scuola. Quella è una manifestazione politica, occupare per alcune ore una sede simbolica, che poi era un'aula, quindi neanche un ufficio, che per un diritto mancato è un'azione, è l'esercitazione secondo me di un'azione politica e di richiesta di diritti e quindi questa non deve essere negata e quindi per questo c'è bisogno che la politica consenta determinati tipi di espressione e in questo caso, essendo probabilmente da quanto si desume la denuncia partita dalla regione Lazz e dalla regione Puglia, mi auguro che ci sia un passo indietro laddove è possibile se non c'è un procedimento d'ufficio perché questa azione è ignobile o che comunque le aiuterà a pagare una sazione che è in carrozzella. Non stiamo parlando certamente di un attacco da ultras, da stadio. Ha ragione, su questo sono pienamente d'accordo con Marrazzo. Insomma, voglio dire, le istituzioni prima di tutto devono sempre porsi in una posizione di netto ascolto e di disponibilità. Anche perché mi verrebbe voglia di dire a chi hanno dato fastidio, insomma, mi sembra davvero paradossale. Mi sembra veramente difficile comprendere come dire che abbiano potuto delle persone, otto persone in carrozzella, mettere a suo quadro... Quando nel servizio abbiamo specificato che sembrerebbe, insomma, che vengono puniti perché hanno occupato quella stanza appunto della regione Puglia per quattro giorni, io ho sentito poi queste persone ed erano lì, mi hanno detto, ma nira, noi avevamo le piaghe perché purtroppo, potete immaginare che noi non ci siamo potuti lavare per quattro giorni perché lavamo lì per protestare, perché abbiamo bisogno di assistenza, che questa regione ci ha negato. Quindi anziché, e lo dico a chi gestisce la regione, apprezzare che queste persone erano lì in quelle condizioni, li avete puniti. Questo, secondo me, è davvero imperdonabile. È imperdonabile. È imperdonabile e quindi è da condannare assolutamente un atteggiamento di questo tipo, anche perché non sono invisibili e quindi assolutamente vanno ascoltati. Ci sono le leggi e le leggi non vengono attuate. Per cui ovviamente chiedono maggiore assistenza, chiedono la possibilità di essere autonomi, chiedono meno barriere architettoniche. Ma la cosa più triste è per la serie, sì, vi abbiamo ascoltato, fatto finta, adesso vi puniamo così non venite più a dar fastidio. E credo che questo sia davvero ignobile. E la cosa assurda è trattenerli quattro giorni, che è ancora più grave. Allora, facciamo in questo modo. Io devo andare un attimo in pubblicità e torniamo su questo tema, perché devo presentare anche un paio di libri davvero importanti, perché non dobbiamo abbassare l'attenzione promozionale proprio sulla disabilità. Una manciata nei minuti. Ben ritrovati nella seconda parte del punto. Questa sera stiamo attenzionando un tema davvero molto delicato. la denuncia che è partita un anno fa da parte di questi otto signori in carrozzella che davanti alla regione protestavano per avere il riconoscimento dei loro diritti. Io, per prima, nelle mie trasmissioni, come il punto in prima serata, sono stata vicino a chiamare alla responsabilità quella parte politica che in realtà aveva accolto questo appello, sia la mia attenzione ma soprattutto le loro grida. Ma da quel momento in poi qualcosa è andato storto, perché questi signori sono stati condannati a diversi mesi di reclusione, perché si sono appropriati del suolo pubblico della regione Puglia per questa protesta. Pensate bene anche a pagare cifre come 9 mila euro. Davvero una storia su cui tornerò a parlarne. Adesso, per non abbassare la tensione sulla disabilità e di quanto questa comunità ha bisogno di riferimenti, questa sera insieme allo scrittore che da calciatore è diventato scrittore per una storia davvero molto toccante e come, oltre le apparenze, questo libro che sta davvero spopolando in tutte le scuole della Puglia e non solo. Andiamo a vedere questo estratto. Ciascuno di noi nasce al mondo con una missione. Sono Antonietta Mastropietro e sono una pedagogista. La mia prima esperienza lavorativa l'ho avuta proprio qui, all'interno dell'ITC e mi fu dato l'incarico di seguire, a detta di tutti, un ragazzo speciale. Il legame che c'era tra Paolo e Michele era molto forte. Cioè, con gli occhi loro comunicavano. Quando Michele aveva una difficoltà si sentiva pressato, si sentiva sotto pressione. Guardava Paolo e Paolo diceva, beh, andiamo al bagno. Michele ha bisogno di andare al bagno. Lui l'aveva capito con la telepatia e quindi uscivano fuori. Quando Paolo è entrato in famiglia, io avevo 11 anni. E, diciamo che la scena è stata che me lo sono ritrovata in salone, che era lì sotto le torture dei miei genitori, che gli facevano il terzo grado. E io arrivai, ero piccolina e quindi, diciamo, mi presentai così, tipo, ciao, sono Antonella, sono la sorella. E quindi Paolo quando è entrato erano un po' più, un po' tutti scettici, diciamo, ma questo qua. E Michele faceva, ma non è che ti fanno fumare? Cioè, il fatto di includerlo anche in esperienze goliardiche, che sono caratteristiche dei ragazzi. Una sigaretta, non è che adesso lo introducessero a una vita viziosa, per carità. Però fargli provare le stesse cose che provano i ragazzi della loro età. Paolo Vicino, vengo da te perché, oltre le apparenze, è una storia vera, tratto da una storia vera, perché c'è un incontro tra te e questo ragazzo che si chiama Michele, che spero un giorno di conoscere. E tu rimani colpito dalla sensibilità di questo ragazzo al punto di scrivere una storia. Sì, infatti mi ha colpito un po' il video perché è sempre emozionante, come se lo vedessi per la prima volta, nonostante sia stato io l'artefice di tutto. Niente, io ho conosciuto questo ragazzo tra i banchi di scuola, ho recepito subito il suo messaggio di aiuto, il suo grido di aiuto, poiché si trovava estraniato in un contesto a lui nuovo, con compagni nuovi, e non avendo facoltà di parola, insomma, si scuoteva, si divenava, voleva uscire dalla classe perché non riusciva ad interagire con il resto della classe. Ed io, essendo un ragazzo molto empatico e sensibile, mi avvicinai per primo, mi feci coraggio e cercai appunto di capirne di più, quali fossero le sue condizioni, il perché si trovasse su di una sedia a rotelle, il perché, insomma, fosse diversamente abile, che cosa gli fosse capitato nella vita. Poi di là, insomma, è nato questo bellissimo rapporto che ad oggi, dopo 14 anni, siamo ancora l'uno a fianco dell'altro e questa è una cosa bellissima. Molto, molto bella. Complimenti. Ma Razzo, ce ne fossero di Paolo Vicino allora, anche per, come dire, sviscerare la sensibilità di chi invece condanna dei disabili perché stavano protestando? Sì, no, certamente è una storia molto importante. Questa voleva aggiungere quella che è partita proprio in questi giorni, della terrazza che è una delle pochissime spiagge, se non addirittura l'unica in Italia che si trova in Salento, in provincia di Lecce, che consente la piena accessibilità a tutte le persone disabili di ogni tipologia. E purtroppo questa spiaggia, che ha un protocollo con la Polizia di Stato che garantisce i bagnini, tutti gli operatori invece non sono garantiti. Quindi ha iniziato una raccolta fondi in questi giorni proprio per chiedere un sostegno per poter garantire gli operatori. Perché dovete pensare che per ogni persona disabile che va lì, anche i tetrapeggici, cioè persone che non possono muovere nelle braccia e nelle gambe, vengono assistiti. E per persone, ad esempio, di quelle caratteristiche c'è bisogno di almeno due operatori. E quindi loro hanno tantissimi operatori che servono quotidianamente, circa 20-30 persone, per assistere tutte le persone con gravi disabilità che possono andare. E quella è l'unica spiaggia in Italia. E mi sembra assurdo che nella Regione Puglia si sentano tante parole positive, però poi una spiaggia di questo tipo, che è un'eccellenza in Italia, debba fare la raccolta fondi per garantire gli operatori. Ecco, allora, perché Giuseppe Labbate siamo così indietro sul territorio pugliese nel riconoscimento dei diritti nei confronti dei disabili? Diceva prima l'Avvocato Lella non sono persone invisibili. Purtroppo potrebbe capitare a chiunque di finire, mi spiace, su una sede di hotelle per un problema X, che non lo auguriamo a nessuno. Ma che facciamo? Prendiamo le distanze e non riconosciamo i diritti perché una persona, come dire, sfortunatamente finisce su quella sedia a hotelle? D'altra parte, insomma, la società in cui viviamo oggi purtroppo è talmente offuscata da un egoismo dilagante che spesso, appunto, perde, offusca, come dire, la sensibilità, appunto, a cui faceva riferimento proprio Antonella Lella. Proprio perché, se immaginate che ogni giorno, anche nei pubblici uffici entrano persone disabili che spesso e volentieri si assistono a delle scene da situazioni proprio vergognose dove addirittura si litiga perché magari un portatore di handicap supera nella fila un'altra persona che magari lì è in attesa. Insomma, capite bene che siamo lì e è un problema culturale, prima di tutto, e quindi non credo che sia un problema solo e esclusivamente della Puglia, anche se poi dobbiamo anche completare questo ragionamento dicendo che purtroppo i portatori di handicap oggi sono un problema economico prima che essere magari una risorsa perché loro chiedono di essere persone normalissime come tante altre. Però non si può mettere il bavaglio a chi manifesta. Io torno sempre su questo argomento. Presidente, vengo da lei, Avvocato Lella, perché come Paolo Vicino anche Monica Di Giglio che spero di conoscere prestissimo è una ragazza ovviamente con delle disabilità e ha scritto questo libro bellissimo che si chiama Pensieri diversi un libro davvero molto profondo. È un libro molto profondo Monica è una donna di 45 anni e lei è una risorsa come tutte le persone diversamente abili. Sono risorse perché Monica intanto ha scritto questo libro in cui lei parla delle sue emozioni, di un suo amore e quello che appunto ci dice è che non vuole essere guardata con occhi pietosi. Lei si sente una risorsa, lei dipinge magnificamente, infatti frequenta un laboratorio di pittura e mi raccontava di quanto la terapia diciamo riabilitativa fosse così più difficile che non avere un pennello tra le mani. Quindi sono ovviamente persone che vanno considerate in tutti i loro aspetti perché appunto sono risorse e vanno aiutate a potersi esprimere perché ripeto non è un corpo che fa ovviamente un corpo costretto a stare in carrozzina ma c'è tanto altro. Sono d'accordo con lei. Purtroppo il tempo a disposizione per questa sera è finito ma chiedo all'avvocato Lella la promessa di conoscere Monica magari di invitarla in studio perché mi parebbe... Sarà molto felice. Molto felice. Voglio chiedere anche a Paolo Vicino di presentarmi Michele così insomma approfondiamo questa bellissima cizia. Considero l'ho già fatto. Benissimo. Allora torneremo a conoscere i protagonisti di queste storie anche condividerle con voi telespettatori sapete quanto io ci tenga particolarmente. Grazie anche da Roma a Fabrizio Marrazzo per le sue lotte il partito LGBT+. Grazie e mi torni a trovare a prestissimo e grazie anche da Fratelli d'Italia Giuseppe Labbate che ritroverò nelle mie trasmissioni. Grazie a voi. Adesso grazie a tutti quanti vi devo lasciare e buon proseguimento con i programmi della rete.